Adottare un bambino a distanza consentendogli di rimanere nel suo paese, nel suo contesto familiare, ma migliorandone sensibilmente le condizioni di vita. Si è parlato di questo ieri mattina nella chiesetta di San Michele a Sciacca su iniziativa dell'associazione Italia Solidale, una onlus che da anni opera in questo settore. Italia Solidale è un'associazione che si trova in tutto il mondo in 108 missioni del Sud America, dell'Africa e dell'India e lavora molto anche qui in Italia. Noi siamo appunto dei volontari che ci impegniamo per non lasciare morire i 26.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame. È un'ecatombe che non possiamo accettare. Noi italiani siamo persone generose, però bisogna anche sapere come salvare questi bambini. Per esempio attraverso l'adozione a distanza che noi portiamo avanti appunto in tutto il mondo per questi bambini e le loro famiglie, è possibile proprio salvarli uno per uno. E quindi io chiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento a salvare la vita di un bambino. Entrerete in contatto con lui, vi scriverà, vi manderà la foto e avrete veramente, farete un'esperienza meravigliosa di che cos'è salvare la vita non solo del bambino, ma anche la vostra. Perché con l'amore salviamo anche la nostra vita. Potete telefonare al numero dell'associazione che è lo 06 68 77 999 e vi rispondono tantissimi volontari che appunto come me sono impegnati per salvare la vita di questi bambini. E potete fare questo gesto di grande solidarietà con pochissima spesa, praticamente sono 25 euro al mese, che non ci toglie nulla a noi ma che veramente regala la vita a questi bambini. L'associazione opera in alcune delle zone più disagiate. Noi abbiamo delle missioni per esempio in Darfur, si è parlato molto del Darfur dove ci sono stati dei massacri purtroppo e dove ancora oggi c'è molta sofferenza. O siamo presenti in Colombia dove c'è la guerra civile o in Ruanda dove appunto nel lontano 94 ci fu un genocidio terribile che ci colpì tutti anche qui in Italia e su cui appunto siamo molto presenti perché stiamo lavorando per costruire la vera pace. E con noi portiamo una cultura di vita che è praticamente un modo per recuperare completamente le forze di vita di ciascuna persona. Infatti non facciamo assistenza con le adozioni a distanza, non costruiamo nulla, nessuna struttura, nessuna organizzazione ma puntiamo sulla persona e soprattutto vogliamo salvare i bambini recuperando totalmente le loro famiglie. Chiedo alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento di telefonare per fare un'adozione a distanza, unitevi a noi in questa solidarietà bellissima per salvare i bambini.